salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata di robocraft bene da un po che mancava 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 una puntata su robocraft questa è la prima del nuovo anno possiamo dire che sto registrando l'anno nuovo anno 2016 e quest'oggi 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 cosa andremo a fare proviamo a costruire un aereo dai passo per passo vi farò vedere più o meno come costruire un aereo allora adesso non abbiamo nemmeno più la difficoltà di dove posizionare il pilota quindi credo che dovrebbe essere un po più facile allora io inizierei con subito facendo una zona centrale così diciamo un delle dei cubi centrali cubi centrali così in questo modo e direi di fare anche una bella postazione cioè diciamo posa anche dietro per renderla un po più larga diciamo sia sopra che sotto vai così voglio provare a fare così in questo modo in questo poi 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 ci andiamo subito a mettere io direi mister gray dei traster subito proprio due traster qui e dall'altro lato giustamente la giusta mount allora allunghiamo un altro po fino a raggiungere i traster dietro e poi voglio trovare la posizione ideale per poi mettere le ali le ali quelle da dietro diciamo le piccole ecco le i rudder ecco rudder abbiamo due rudder del genere questi sono piccoli ma in realtà sono enormi ecco quindi 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 se facciamo mettiamo due piccole dietro quelle un po più piccole diciamo piccole queste queste ce la facciamo così e ci vanno proprio una meraviglia e poi le altre sempre piccole però laterali da questo lato così ok così e queste qua le dobbiamo mettere comunque sopra che abbiamo bisogno anche di quelle centrali perché quando me l'ha messa ma non lo so fatti suoi ok la zona diciamo retro è stata fatta ok fin qui ci siamo già sta prendendo forma il nostro aereo direi che questo questo sia proprio la forma ideale va secondo il mio punto di vista vediamo qua non possiamo mettere aggiungere nulla se non qua davanti però mi piace perché l'ali centrale voglio le voglio tipo qua quindi gli metto giusto due blocchi e io andiamo a mettere anche le ali davanti in questo modo qua troviamo qua così così è perfetto così è perfetto sì mi piace mi piace tanto qua un po' squadrato poi dopo andiamo ad abbellire un po' magari facendo una cosa del genere così 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 riesco a mettere un altro no non direi quindi qua deve poi continuare continuare ma perché parlo con naso stamattina non ne ho idea deve continuare per poi finire in avanti vediamo qua se riusciamo già a girare sì riusciamo già a girare però anche qua riusciamo già a girare quindi io direi di girare qui togliere questo così si è bloccato mai successo in vita mia che si bloccasse robocraft poi si è bloccato proprio che cacchio mai capitato una cosa del genere ok chiudiamo così questa sarà la nostra forma più o meno più o meno più o meno e questa è la nostra forma ok qua allunghiamo un altro po' e ci andiamo a mettere un altro di questi in questo modo così qui davanti qui davanti qui davanti come vogliamo chiudere allora chiudiamo qua così perché mi garpa poi cominciamo a usare un po' le nostre piramidi ecco 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 perché si è bloccato perché io stamattina ho problemi di connessione come al solito cioè da un bel po' di giorni che è un problema è un problema di connessione e adesso è probabile che tutte queste modifiche che sto facendo non verranno salvate e io mi incazzo un cazzo brutto ok così mi piace anche se qua non gli possiamo mettere niente però mi piace però magari questi qui ci andranno anche bene lasciando questo spazio sì dai ci sta ci sta ci sta ci sta che è una bellezza purtroppo devo fare così fin quando la connessione non rientra stabile sperando che mi salvi quello che sto appena facendo che è probabile che si disconnette e tutte le modifiche sto facendo all'aereo non verranno salvate molto probabile ok scusate allora un'altra cosa fondamentale è anche quella di mettere più ali più ali riusciamo a mettere è meglio è perché dopo se ci buttano giù un'ala è finita mentre se ne mettiamo più di una devo distruggere anche l'altra ok già possiamo provare così come va anche se non so adesso se entro in game può darsi che mi si cancella tutto tutto quello che ho fatto ok vediamo un po dal basso diciamo qua così come potremmo fare allora allunghiamo fino a qua fino alla fine qui vado a mettere questi perché ho la possibilità di farlo e quindi lo faccio qui qui poi vediamo qui rimane così ci posso mettere sempre questi si mi piace così bello chiuso in questo modo e da quest'altro lato andiamo a fare lo stesso servizio che non possiamo fare che bello mettiamo questi così tutto brutto poi proviamo vediamo 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 qui ci potrebbe andare anche qualcosa le metto tanto per così come qua davanti va bene così allora qui stavamo continuando così fino a qua ok ci sta ci sta ci sta e andiamo a mettere poi no quadrato non si può mettere quindi dobbiamo mettere comunque questi qui così quasi a chiudere i thruster va poi dobbiamo vedere anche come posizionare i plasma perché sotto un aereo vanno i plasma per forza anche un'altra cosa fondamentale l'aereo più è stretto più è agile ma adesso abbiamo largato ed è meno agile quindi un'altra cosa molto importante se lo fate stretto e lungo diventa molto più agile quindi una cosa molto importante anche questa se mettiamo questo qui no è bruttissimo mettiamo qui fammi vedere fammi vedere questo lo togliamo lo mettiamo qua così chiude di più però non mi piace il fatto che no rimaniamolo così questo lasciamolo si dovremmo chiudere qua però volendo potremo anche non chiuderlo perché io qua sotto voglio inserirgli prima di tutto delle protezioni diciamo degli scudi gli scudi così no qua giusto uno più largo andrebbero perfetti però volendo potremmo mettere questi scudi qua un po' troppo grandi effettivamente per un aereo e rovinano anche la bellezza dell'aereo e qui centrale poi potremmo mettere tutti i plasma però quando quanti ne riusciamo a mettere pochi proviamo a parte che non riesci a mettere perché è troppo basso però basta fare uno più giù volendo si potrebbe fare però lasciamo stare allora dobbiamo mettere prima magari plasma eh vediamo un po' quante ne riusciamo a mettere altri due laterali così poi un altro centrale va qui e altri due qua sono tre quattro cinque e uno sei sei plasma così diciamo senza le protezioni quindi saremo molto deboli e i nemici ci potrebbero attaccare tranquillamente allora un altro traster deve andare per forza qua dietro ah per poco non ci va e se io questo invece di metterlo così lo metto in alto e ci metto il traster eh sì va bene va molto meglio perché un'altra cosa importante sempre è aggiungere velocità cioè traster 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 dobbiamo metterci mmm ne manca uno mi dice ho pochi traster ho consumati tutti ne ne è rimasto uno solo questo è più basso volendo potrei anche acquistarlo quindi sai che vi dico questo qui è più piccolo comunque dovrebbe andare qua qui non me li fa mettere e quelli sempre tier 10 li vado a mettere sempre laterali centrali magari così vediamo se va vediamo se va proviamo a vedere se mi fa testare il robot sperando che abbia ripreso la connessione ma mi sa che non è così quello lì piccolo centrale non mi piace lì effettivamente non mi piace non mi piace lo cambieremo si lo tolgo mi compro questi qua grandi e glielo andremo a mettere poi dobbiamo comunque ecco fammi vedere ecco allora di nuovo ho perso la connessione va benissimo che bello non possiamo testare il nostro robot allora noi andremo comunque a fare un po' di modifiche qui per rendere tutto un po' più compatto questa linea qua dietro nemmeno mi piace tanto però dobbiamo arrangiarci diciamo allora per renderlo più forte così così è sicuramente più forte qua non possiamo mettere niente però fare una cosa del genere per rendere il tutto più resistente agli attacchi dei nemici ecco così è bello che è compatto vediamo anche sotto se ci va no non ci va qui sotto però qua facciamo una cosa così oppure viene abbastanza figo e magari qui lo togliamo questo e ci andiamo a mettere questo tipo un piano viene va mi piace mi piace allora qui comunque dobbiamo chiudere in qualche modo invece di mettergli questo ci andiamo a mettere qua verso l'esterno mi piace di più però essendo solo un cubo qui è un po' deboluccio una plasmata oppure 3-4 smg che arrivano qui mi distruggono già le ali di dietro oh com 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 si ma rientra basta l'ho detto già 3.000 volte Dovrei rafforzare Tipo come ho fatto qua Vedete che ho messo questi qua verso il basso Già devono distruggere prima i prisma E poi i cubi Dovrei fare una cosa del genere Anche qua dietro Quindi dovrei eliminare questi Farò una cosa del genere e poi rimetterli Quindi se noi li andiamo a eliminare Qui Facciamo magari Così Anche se qui Potrebbero andare anche questi E gli vado a mettere Il quadrato Qui però ci vado a mettere l'altro tipo di quadrato Questo in modo che Vediamo di collegarlo Bene con questo qui Qui glielo tolgo Metto questo qua Che ha più una forma Geometricamente Adeguata E basta Allora se faccio una cosa del genere E qui Metto questo Eh? Già ha preso una forma Molto molto più Consona Ai nostri standard Di gioco Non lo so che ho detto però Così mi piaccia Mi piaccia Mi piaccia tanto Allora Quindi questi li potrei mettere qua E altri qua no È possibile Troppo vicini Però lo possiamo mettere Sì Ho capito Un aereo compatto E forte Quindi abbiamo anche Rafforzato questa zona qua dietro Adesso ci rimane che rafforzare Si è bloccato di nuovo Vai Che roba è Non lo so se si sente dal microfono Ma sta passando tipo un caccia al bombardiere O qualcosa del genere Sopra casa mia Ok Allora Chiudiamo anche qua Magari facendo così Si mi piace Facendo così E poi qua come andiamo a richiudere Mh 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 Dobbiamo lasciarlo così Va bene così Allora Qua visto che voglio chiudere Vediamo se riesco a chiudere Così Qua Togliamo questo Vediamo se ci va bene Un quadrato del genere No E' sempre quadrato Quindi No Facciamo proprio una cosa molto semplice Scusa Facciamo così E' bruttissimo però Come estetica E' bruttissimo Usa così In questo modo Effettivamente Molto brutto Sì Così Va bene Va bene Così Qua Oppure Potrei fare Con questo Modo qua E poi E devo mettere forse Un quadrato Così Se vado Così E così Vai Dai Diamo Una coda Più Consona Alle aspettative Non lo so che ho detto Però va bene così Allora Qua vado Vado a chiudere In questo modo Così E poi magari Alla fine Gli metto questi Anche qua Gli vorrei mettere Una cosa Almeno Sfruttiamoli Questi Questi Queste Nuove forme Piramidali Piramidali Qui deve andare Per forza In questo modo Altrimenti Se no Il traster Non può far uscire La potenza Massima Bla 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 Grazzate varie E qui rimangono Questi due Che comunque Sono un po Deboli Vai Però Se io gli faccio Una cosa del genere Li rafforzo Perché Metti in caso Che mi colpiscono Quello giù Si mantiene Attraverso Questi Questi Prisma Quelli avanti Se questi Gli tolgo Gli metto sempre Questi qua Piramidali Così No brutto Così Però In questo modo Qua No Fai vedere Com'è Eh Diciamo Cioè potrei Anche continuare Con questi Quindi Questi Li vado A togliere Eh Ni Ni Però Boh Non lo so Lasciamoli così Vai Per il momento Anche visto che Non lo possiamo testare Quindi Dobbiamo testare L'aereo Per forza Perché dobbiamo Capire le ali Se vanno bene Se dobbiamo Mettere un po' Più avanti Più sopra Più giù Se si muove Abbastanza bene Se non si muove Bene Dobbiamo aggiungere Qualcos'altro Tipo Volendo Potremmo fare Anche una cosa Del genere Prendere le ali Piccole Tipo queste Che sono ancora Più piccole Abbiamo otto Potremmo Metterle anche Avanti Qui O se riusciamo A metterle Anche qua Cioè Possiamo Svariare In qualsiasi modo Qua dietro Altre due Così Per dare ancora Una maggiore Cioè Più ali mettiamo Più Hanno bisogno Di buttarle giù Cioè Nel senso Noi abbiamo bisogno Di ali Altrimenti Non riusciamo a volare Anche se adesso Abbiamo Il fatto che si Autoricostruisce E già È un vantaggio Allora Deve essere Perché non cambia Ah Perché non ho più Il premium Adesso E quindi mi fa usare Solo questi colori qua Bastardo Arancione Non mi piace Celeste Non mi piace Grigio No Che bastardo Che cosa Bruttissima Il fatto che Quando non sei Non hai L'ad Non sei premium Non puoi Fare altri colori Facciamo così E facciamo La linea centrale No La linea centrale Arancione Ci sta Grigio Arancione Ma è bruttissimo Era più bello Nero Arancione Nero E' più bello E' più bello Effettivamente Molto più bello Però Adesso è quello Che ci passa Il governo E questo possiamo fare Per adesso Per adesso Per adesso Poi Vedremo Più in là Non so se fare anche Questo qui Arancioni Laterali No Facciamo sulla striscia centrale Va No Questo lo rimaniamo Bianco Il plasma O azzurro Figa azzurro Però O arancione No Lasciamo l'arancione Perché abbiamo fatto la striscia arancione Va bene arancione Così Dai Così Questo è il nostro colore Vediamo un attimo Il mio Adesso Il mio computer Ha ripreso la connessione Che va e viene Non so per qua Perché Per qua Cioè Sto iniziando anche a parlare francese Ha ripreso la connessione Però Mi sa che dovrei riavviare RoboCraft Quindi ragazzi Per questo episodio E' tutto Vi ho fatto vedere Bene o male Come sono le basi Per costruire un aereo Allora Cose Ripetiamo Cose principali Ali Tante ali Chi ali mettete Meglio è Però Sempre Testandolo Perché Vi ripeto Ancora una volta Tutto sta nell'equilibrio Bisogna trovare il giusto baricentro Cioè Bisogna trovare il baricentro Per dove mettere le ali Perché Se le mettiamo a casaccio L'aereo non volerà mai Calcolate che Deve avere Una portata più ampia in avanti Cioè Avanti deve avere le ali più grandi Per forza O mettete molte più Piccoline Oppure mettete anche Due piccoline Ho fatto a volte Con un aereo Con solo due piccoline Tipo queste qua In avanti Però Poi ho dovuto mettere Tipo dei thruster Se me lo fa Scatto così Tipo dei thruster Si è bloccato Si è bloccato Girati Perché non le gira Ehi Questo è scemo Guarda Non mi gira Non mi Ma perché fa così Cioè Non lo so Comunque Dei thruster Qua davanti Che spingevano Cioè Davano potenza E spingevano Verso l'alto Davito Solo che Facendolo più così grande Dovremmo Mettere tanti di quei thruster Qua davanti Che sarebbe brutto Non sarebbe più un aereo Ma sarebbe Uno speed thruster Ecco Non è Il nostro caso Un'altra cosa fondamentale È cercare di proteggere Il più possibile Le ali Ho visto molti Che hanno Fatto le ali E poi Tutti intorno Gli hanno costruito l'aereo Cioè Quindi Prima di buttarlo giù Dove buttare giù Tutti i blocchi Anche Se Nelle modalità di gioco Di adesso Siamo un po' più Avvantaggiati Perché ci buttano giù Un'ala L'aereo Non è più controllabile Cerca di cadere Giù Da qualche altro Da qualche altra parte Aspetti dieci secondi Ti Ti costruisce Diciamo Ti cura Il gioco Il gioco stesso E continua a volare Ah dobbiamo Ancora finire di chiudere qua Ci siamo dimenticati Ma ormai Il gioco ha detto Di non voler funzionare Ah ecco Forse adesso funziona Vedere Infatti Così Mette dei thruster In questo modo Tipo Anche questo Ah così Anche più di uno E a volte facevo Una costruzione del genere Vi faccio vedere Proprio Iniziamo così Allora Togliamo la z In modo da far vedere Allora Facevo una costruzione Una linea Quasi centrale Cioè Allora Partiamo da capo Facciamo qua Così è centrale Allora Questo è il centro No Poi Poi Mi allargavo Poi Prendevo I thruster Quelli piccolini Magari Prendevo Questi tipi qua Facevo Così Vediamo Poi me lo fa Mettere Sì Facevo Tipo una zona Così E questa era La punta Dell'aereo E poi da qui Partiva l'aereo A due Giustamente Poi qua Facevo Tutte le modifiche Del caso Tipo la punta Così Qui Partiva in questo Modo Qua sopra Chiudevo Se riuscivo a chiudere O se dovevo alzare di più Non mi ricordo Queste cose così O altrimenti Anche più sottile Dicevo Ecco Questo tipo così Questa Diciamo Era la punta Dell'aereo Si non me lo fa mettere Infatti Una cosa del genere Oppure Se non avevo poi Tanto bisogno Di questa Spinto O magari Volevo fare Qualcosa di più sottile Perché più sottile L'aereo E più diventa agile Quindi se lo fate Ancora più stretto L'agilità Aumenta Di gran lunga Quindi Facevo così E poi Gli mettevo I traster No Questi pare Non me li fa mettere Allora Prendevo Quelli là Piccolini Quindi qua Ne devo mettere Un botto No E me li fa mettere Ok Boh Mi mettevo Un botto Esagerato Anche All'esterno Poi li potrò mettere Tutti Verso Che spingerono Verso l'alto No Qua troppi L'ho messo È strano Che questo Non me lo fa mettere Perché Allora Scusi Se io metto Uno qui Tu qua Me lo fai mettere Però laterale No Va Scimita Così E poi Giustamente Chiudevo Qua Potessi Chiudere Tranquillamente In questo modo Diciamo Questa Facevo la punta Dell'aereo E poi Sempre i traster Grandi Verso l'alto Sempre Dall'esterno Ci volevano Perché questi qua Erano troppo piccolini Però Comunque Davano una spinta Davano una spinta Mettevo delle ali piccole Anche avanti Ali piccole dietro E facevi Un mini Mini Aereo Comunque Io Ti ripeto Per questo episodio È tutto Cercherò di Riavviare Robocraft Se va la connessione Lo testeremo Faremo le altre modifiche Nel caso Che ci saranno Altre modifiche Da fare Finiremo Di fare Gli ultimi ritocchi Chiuderemo Per bene Vediamo Di mettere Qualche protezione Qualche Traster O di aggiungere Altri plasma Canon Perché ne voglio Aggiungere altri Anche se Il massimo è 6 Meglio Metterne Altri due Minimo In modo che Se vi distruggono qualcosa Voi comunque Potete continuare A sparare Quindi Vi ringrazio di nuovo Da Zerch è tutto Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi